Appuntamento per venerdì 21 aprile al Comunale di Sassari e per il giorno successivo al Palacongressi della Fiera di Cagliari per la presentazione di Sardegna al Centro 2020. Due i protagonisti della nuova realtà politica che nasce dalla fusione a freddo tra Sardegna 2020 di Stefano Tunis e Sardegna al Centro di Antonello Peru, con l'intenzione di raccogliere l'eredità lasciata nel cuore della politica isolana dalla scomparsa del leader dell'Udc Giorgio Oppi, ancora da valutare quale sarà la reazione dei veri eredi del padre padrone della politica regionale e parliamo dell'Unione dei Democratici di Centro, capitanati dall'assessore alla cultura Andrea Biancareddu. Peru rappresenterà nella nascente Sardegna al Centro 2020 gli elettori del nord dell'isola, mentre Tunis sarà protagonista nei territori meridionali, con consensi importanti nella città metropolitana di Cagliari, ma soprattutto nel Sulcis, nel sud e nel medio campidano. Dopo il rinnovato partito socialista di Raimondo Perra e Mondino Iba, scende in campo a nove mesi dal voto una nuova proposta per gli elettori sardi, mentre è sempre più probabile un matrimonio di intenti tra il PD del neosegretario Piero Comandini e i 5 Stelle che ha in Alessandra Todde una possibile candidata per la coalizione di pentasinistra sarda.